Ciao sono Luca di Mr. Gadget, anche oggi vi presento due prodotti molto interessanti preparate le pastiglie per il mal di stomaco per la concorrenza perché questi due prodotti sono veramente notevoli da una parte Realme 7 Pro e dall'altra Realme 7 Cominciamo con il primo dei due prodotti presentati oggi ovvero Realme 7, un prodotto con una finitura veramente gradevole questo blocco delle fotocamere con fotocamera principale da 48 megapixel e poi abbiamo un grandangolo da 8, una fotocamera bokeh e una macro quindi un sensore di profondità e una macro da 2 megapixel sul fronte invece una selfie cam da 16 megapixel display 6,5 pollici Full HD+, con un'ottima leggibilità anche un angolo di visione veramente notevole ma soprattutto con un refresh rate a 90 Hz è protetto da un Gorilla Glass 4, ha una superficie complessiva di circa 102 cm quadrati e le finiture devo dire che sono gradevoli sensore per impronte digitali messo a lato sblocco anche con il volto, il jack per le cuffie da 3 mm e mezzo e poi il connettore USB Type-C queste sono le caratteristiche molto interessanti di un prodotto che ha una batteria da 5000 mAh un processore Helio G95 che nasce per essere utilizzato per il gaming la batteria viene promesso che sia, scusate, il processore il migliore in assoluto di questa categoria per il gaming beh, insomma, il prezzo è veramente impressionante si parte da 179 euro questo è invece il modello che farà venire veramente il mal di pancia a molti concorrenti perché Realme 7 Pro arriva con 4 fotocamere di cui tra l'altro la principale da 64 megapixel un grandangolo da 8 e poi sensori di profondità e bokeh da 2 megapixel selfie cam frontale addirittura da 32 megapixel e un display AMOLED cioè AMOLED a 319 euro con una diagonale da 6,4 pollici una superficie intorno ai 99 cm quadrati e una leggibilità veramente da competizione vedete, veramente notevole il telefono da un lato ha il volume rocker dall'altra il pulsante di accensione nella parte bassa vedete il jack per le cuffie e anche il blocco da USB Type-C ma la cosa più importante da sottolineare è che questo dispositivo ha un caricatore da 65 Watt che va da 0 a 100 con una batteria da 4600 mAh da 0 a 100 in 34 minuti il processore è il 720G di Qualcomm ci sono 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna un software che praticamente è quasi stock l'unica personalizzazione fatta da Realme nella Realme UI è quella delle impostazioni ma tutto sommato devo dire molto molto semplice la gestione di questo prodotto che onestamente per il prezzo richiesto è veramente molto ma molto interessante Realme 7 Pro si parte da 300 euro avete dunque visto due prodotti molto interessanti con delle caratteristiche di tutto rispetto a dei prezzi veramente incredibili perché il modello 7 arriva sul mercato nella versione con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna a 179 euro e poi via via si sale con il prezzo con un modello da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna fino al migliore con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria che costa 259 euro Realme 7 Pro nella versione con 8 GB e 128 GB di memoria interna arriva al prezzo di 319 euro devo dire che con questi prezzi sarà difficile trovare di meglio e anche il Poco X3 che ci sembrava imbattibile insomma ha trovato un concorrente davvero temibile e anche il outro